Io confesso di essere stato anch'io un lavoratore dei campi, perché durante la guerra, io munto le vacche, va bene, quando avevo sette anni per mantenere la famiglia, mio padre era un antifascista, ha dovuto scappare in Svizzera, quindi io eravamo due nonni, io e una mia sorellina, mantenuti da mia madre che veniva a Milano tutti i giorni in treno, e le entrate in famiglia erano modestissime. Io andavo a mungere le vacche su una collina d'Oltrona San Mamete vicino a Como e avevo come pagamento una calderina, un recipiente, con la cagiada, cioè con lo yogurt di allora.